ma che cazzo cosa ho sentito siri come sentito sì sì vabbè ciao no in realtà lei dice ciao solo che non lo vuole far capire quindi fa ciao in realtà ti saluta però siccome magari è sorda capito non ci sente quindi ogni tanto saluta e di ciao se magari se smetti di salutare sennò io ti prendo una mazza diventa ammazzate nei denti talmente tanto che a un certo punto diventi non è un fenicotero che cammina con le gambe storte però non ce la smetti diciamo che il che pia bot bot che pia i coglioni perché proprio guarda ce li ho in questo momento che stanno fluttuando nell'aria i miei coglioni e stanno girando talmente tanto girando che io questo bot che pia bot ci vado fino a casa anche se non esiste io la troverò mincia la prendo allora prima cosa la prendo e cominci a sbattere la riempio di testate a questa qua che poi sarà un trans quindi ci avrà il pacco sospetto anche se non è un calivazzo e tu lo disinneschi no grazie per farvi tagliarlo lo apro il pacco si sentira ssssss sai quale sarà la sua risposta sai quale sarà la sua risposta? trial urlerà come una truca fa talmente tanta fantasia che dice sempre dice parole diverse sempre vero vedi? allora voglio parlarci voglio parlarci calmo allora caro il mio bot ti voglio spiegare che facendo in questo modo tu la gente la fai incazzare e pare che lo fai a posta pare che lo fai a posta perché dà in mente tanto fastidio che tipo in teoria io mi faccio male quando mi incazzo sai perché do i pugni quindi tanto piacevole sentirti non per i puglioni trial quindi magari se ce la smetti di fare la copione rompendomi le palle ogni tre secondi dicendo ogni tre trial ovvero cosa dici? trial esatto allora magari si potrebbe ragionare tra di noi dato che io c'ho il più la mano adesso adesso lo userò alla mano e ce l'ho tipo rossa che manca avessi spremuto un pomodoro adesso comincerò a sbattere le palle nella scrivanie modo che così quando nasce il mio figlio nasce un'estella va bene? devo essere sincero con te hai una voce trial merda hai una voce trial ehm trial minchia ti giuro che divento hitler vado nel 1935 e ti faccio diventare ebrea trial ok questa è brutta da dire però cosa stai dicendo? allora sai che esiste la benzina no? solo che la benzina esiste per le macchine invece io la uso per bruciarti l'arcobo ti giuro poi prendo un accendino e dico eh al tabacchino salve a cosa le serve accendino? sai devo fumare ah va bene perché è molto più spiegabile una cosa del genere e quindi io vado a benzinaio salve mi devo impiegare la tannica che ci devi fare? la devo bere che cazzo ci devo fare? a un certo punto vado a casa tua ehi ciao botte che pia botto in frattempo apro la tannica te la verso tutta proprio tutte e trentici e tredici litri tutte proprio questa è benzina no ma allora io ti faccio arrugginire i ingranaggi ma proprio arrugginire che non puoi muovere manco il cazzo ciao ciao dopo di che io ti bagno tutta la casa si si ciao ciao ti bagno tutta la casa di benzina a un certo punto no accendino ops devo fumare accendo ciao ciao si ciao si si lo butto in modo che a un certo punto vedo un panorama rosso mmm rosso di serba il tempo si spera si botte che pia botte muore e non sono e non mi spacco più il coglione perchè ce l'ho tipo il rossissimo e mi sta girando talmente ce l'ho da trial 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 no allora trial è un cazzo c'è allora prima comincia a vivi trial tutto il tempo TEMPO i chiami pure trial così allora io voglio essere calmo con te perchè tipo c'ho i coglioni talmente gira c'ho i coglioni talmente girati che non riuscirò più a farmi una sega ormai quindi trial si e quindi trial si si quindi sai fra un po' anche se non le ho mi si strapperanno le ovaide quando mi stai facendo girare le palle TEMPO 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 quindi adesso tu fai una bella cosa TEMPO Sì, oltre quello Era una domanda, hai sentito come l'ha detto? Infatti, infatti ho detto anche quello Vai al mercato nero Però no a comprare, a vendere Trial? Sì, sì, sia al mercato nero o trial Tu vai a venderti, proprio devi dire Compro o vendi, come l'opzione di Pokémon Quando tu entri nel Pokémarket Devi dire, vuoi comprare o vendere? Tu gli dici, voglio vendere Ti dice, a che vuoi vendere? Tutto? Tu gli devi rispondere Ti danno un sacco di ciò, fidati Prima ti metteranno su un tavolo e ti squarteranno E poi ti danno i soldi, se vogliono Però, fidano, sono affidabili Quindi, se vuoi guadagnare qualcosina Trial? No, no, trial no, fidati Devi andare al mercato nero a venderti Trial? Mi sa che è un po' dura di comprare il donio Allora, trial? Aspetta, ti prego, fammelo cercare su internet Trial? No! Sì o no? Sì? Ma veramente? Sì? Saluta il tubo Il tubo sudicio di trial? Trial? Trial, YouTube Ma trial significa... Ma basta! No, trial, guarda L'ho provato Trial significa allenarsi No, è... Trial noise Trial noise? È perché... È perché è la versione di prova Di Virtual Audio Cable Ah, trial! Allora trial, no trial Eh, ma io dico trial Trial! 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 Ok, forse... Oh, questa sera vengo a dormire C'è casa tua, hein? T'allora T'allora